Vaccinazioni aperte anche ai quarantenni. Il via libera arriva proprio dal commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Il generale ha inviato a tutte le regioni d'Italia una lettera per dare il via libera alle prenotazioni in piattaforma dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Si tratta dell'ennesima accelerata nella campagna vaccinale che si spera possa far invertire la rotta anche a quelle regioni che al momento procedono al ritmo basso. Ad oggi in Italia sono state vaccinate 25.404.855 persone, di cui 7.888.023 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, corrispondenti al 13,31% della popolazione, mentre in Campania sono 2.260.850 le dosi fino ad oggi somministrate, di cui 1.645.206 hanno ricevuto la prima dose e 615.644 persone anche la seconda dose. Per quanto riguarda i numeri delle aziende fornitrici di vaccini abbiamo il Pfizer con 1.748.505 dosi somministrate, segue AstraZeneca 645.800 dosi e poi Moderna 222.000, chiude Johnson & Johnson a 32.400 dosi.